Ebbene carissimi amici, le mie previsioni Magico continuano a dare ancora grandissimi esiti. Magico 81 consigliato anche qui sul mio canale YouTube. Nella previsione completa pensate che queste previsioni giocano soltanto tre ambi su due ruote e continuano a sfornare vincite su vincite di estratti determinati ed ambi secchi. Questa sera in data 18 febbraio arriva la bellissima vincita del Lambosecco 81-56 sulla ruota di Bari. Previsione fatta continuare a tutti coloro che avevano la previsione. L'ho fatta continuare fino all'ultimissimo colpo e i fatti mi hanno dato ragione perché quando faccio continuare delle previsioni è perché ho delle basi statistiche forti di sortita. 81-56 vinto da tantissimi di voi. Magico 81. Questa era la previsione Magico 81. 81-56 vincita alla grandissima. E mi stanno arrivando testimonianze ancora di questo bellissimo Ambo secco. Mi raccomando ogni volta che presento le previsioni Magico a prendere in modalità vincita venuta la previsione completa perché dalla primissima previsione che ho presentato vi avevo annunciato che queste previsioni erano molto forti e che avremmo ottenuto un sacco di vincite. Saremmo andati molto forti. E questa è l'ennesima testimonianza del Lambosecco vinto con le mie previsioni Magico 81-56 Bari. Quindi mi raccomando ogni volta che le presenterò ad essere sempre più numerosi a prendere queste previsioni. Per adesso un saluto a tutti. Mister Sbanconotto